ciao allora oggi vi parlo di questa crema notte delivery e della linea elixir 7 9 è il trattamento energia giovinezza notte la quantità è un 40 ml e costa 14,95 euro intanto questa è la confezione bella verde in vetro ecco qui che ho completamente finito si vede e c'è ancora un po' il profumo dentro è un profumo di erbe perché sapete che è un brevetto che comprende 7 9 sono 7 erbe 9 trattamenti quindi davvero fantastico ecco vediamo cosa dice in più che posso dire energia giovinezza notte italiana in una notte risveglio la pelle rinaggizzata idratata appare più fresco settimana la pelle allora ok tanta buona tanto buon discorso ok allora la linea elixir 7 notte 7 9 si chiama perché comprende 7 piante 9 brevetti perché è una formula rivoluzionaria ed è che risveglia la pelle in questo caso perché comunque sia perfetta per ogni età è un trattamento anti età ma perfetto per ogni tipo di pelle in questo caso il prodotto il prodotto è un prodotto a notte quindi è un prodotto abbastanza ricco ricco ma si assorbe molto velocemente io ho trovato che l'ho applicato anche all'inizio primavera ed è la pelle comunque se al mattino non è assolutamente unta quindi ottimo prodotto assorbe bene si stende bene si stende bene si stende bene ed è ottimo e oltretutto trovavo che comunque sia questo effetto giovinezza non lo posso dire però comunque sia la pelle al mattino era più luminosa quindi trovavo dei benefici davvero poi con l'inizio delle prime esposizioni solari fine aprile inizio maggio e ho trovato che è perfetta la sera quando magari il viso era più stanco magari avuto le aggressioni del sole del vento anche lo applicavo anche un pochino più generosamente del solito si assorbiva ugualmente ed tonificava davvero il viso quindi davvero un più che giovinezza del tipo di rughe rughette un fatto di ritonifica la pelle l'ho trovato davvero molto valido per questo e ha delle promesse che dice che ogni giorno il viso è più disteso una settimana i tratti sono più distesi ed è in una settimana una settimana il trattamento è più luminoso questo tutti queste promesse non ve le posso garantire però davvero un valido prodotto se lo ricoprerò credo che potrei anche ripensarci anche perché hanno rifatto la linea e il prezzo è uguale ma invece di 40 mila sono andate 50 quindi potrei anche valutare davvero sto provando altri prodotti solo per quello non ne ho acquistato un altro se no l'avrei fatto il profumo è molto delicato molto buono molto gustoso ed io ve la consiglio sicuramente ve la consiglio è un trattamento antietà perfetto per ogni tipo di età quindi non è l'antirughe antico è quello compattezza quello densificante è un prodotto completo antietà quindi davvero un prodotto idratante è nutritivo ed è svegliante rivitalizzante antietà per la notte fatemi sapere se avete provato come si trovate io spero vi sia stata utile al prossimo video ciao